Gli esperti dicono che il 73% degli incidenti domestici avviene in una stanza particolare Ci vediamo amico mio Hai visto mio padre? Dai produttori di Shrek e Madagascar La storia di un topo domestico viziato E la sua prima volta fuori di casa Che posto è questo? È un mondo meraviglioso proprio sotto i nostri piedi È una città vera Ma c'è una cosa che sa Io devo tornare a casa Il capitano della Charlie Parker potrebbe aiutarti Adesso Ciao Venezia Sta per fare un accordo La tua mano E sta per entrare in contatto Siamo tornati Con la gente sbagliata È un pezzo Mettene via Qui sotto gli danno la caccia Ora può baciare la sposa Ma nella sua casa Guarda quanto è grosso quel mostro C'è chi ha preso il suo posto Sarò il miglior topo domestico È un topo che non è mai stato da solo Sta imparando ad affrontare il pericolo In un fantastico viaggio verso casa Ci sono cose che voglio fare Posti da vedere No, questo no Prosti idioti Bene capo Tieni le gambe unite Quando entri in acqua Ho tenuto le gambe unite Spike Giù per il tubo Io credo che questo posto potrebbe piacermi Siamo tornati Siamo tornati